Presidente Balloni, vincere di partite in questa maniera? Sì, è stata una bellissima soddisfazione, una grande gioia perché ci voleva per tutto l'ambiente, per questi ragazzi, perché si è visto che hanno giocato sempre con grande voglia ma con grande paura perché non si può prendere un gol sul fallo all'inizio il Comodoria è una cosa che nemmeno in terza teoria si vede, però il calcio è questo e ci ho messo tanta passione, tanta rabbia e questo gol finale è stato davvero una liberazione per noi Tre punti importanti che fanno fare un piccolo passo in avanti in classifica ma importanti soprattutto per il morale La classifica penso che non si è ancora a casa di guardarla perché sarà sempre negativa però è importante per questo ambiente che ha bisogno di questa vittoria davvero e per questi ragazzi che hanno lavorato per due settimane senza mai fermarsi perché gli sarà detto di stare tutti insieme, insomma questo penso la voglia del suo tempo e la rabbia di giocare sia stato importante